siamo qua con gentile palombelli del deportivo partita vinta 9 a 0 buona la prima quale sono le vostre sensazioni al caldo una buona partita abbiamo giocato bene siamo trovati bene con noi e dobbiamo continuare così sempre sempre avanti avete i mezzi per arrivare in alto vediamo intanto pensiamo alla prossima una partita alla volta un po scaramanti i gemelli del gol buona serata grazie bocca al lupo